A Cava di Titeni la farmacia Carino offre anche servizi per il controllo della salute. I nostri dispositivi permettono di ottenere in tempi brevissimi referti di pronta consultazione da parte dei medici. Dottor Morolo, quest'oggi, stamattina, si ricorda la figura di Giovanni Falcone nei pressi di un parco pubblico che porta il suo nome e anche quello di Paolo Bursellino. E' anche un periodo in cui si ricorda la giornata della legalità. Si sta facendo il massimo per onorare la figura del magistrato palermitano. Sì, il quinto anno. Questa è un'iniziativa che noi ripetiamo da cinque anni e che ha avuto l'adesione poi di tutti gli altri movimenti e gruppi che siedono all'opposizione in Consiglio Comunale. Non è una manifestazione solo retorica. Infatti non facciamo discorsi e non diciamo parole inutili. Noi crediamo che l'impegno civile sia un obiettivo che deve essere perseguito giorno per giorno. L'esempio di Falcone, di Borsellino, degli uomini delle scorte e di tutti quelli che si sono sacrificati nella lotta alle varie mafie che purtroppo affliggono l'Italia, per noi è un esempio costante che ispira la nostra attività in ogni giorno. Più avanti si ricorderà anche Paolo Borsellino, ma comunque ciò che conta è che Giovanni Falcone lasci un'eredità importante, un esempio importante per il rispetto della legalità. Per noi è il quinto anno che facciamo questo piccolo gesto. Non è un ricordo, ma è una testimonianza. Testimoniare che loro hanno dato la vita per lo Stato. Sono esempi di legalità, di trasparenza e di dedizione. E noi che siamo rappresentanti delle istituzioni dobbiamo essere testimonianza, soprattutto per le giovani generazioni. Le loro idee non sono morti con loro, le loro idee continuano a camminare sulle nostre gambe. Noi ne dobbiamo essere portavoci ogni giorno. La dottoressa della Monica, oggi c'è anche lei, in rappresentanza di Fratelli d'Italia, qui a Cavali Tirreni. Anche voi dovevate partecipare a questa iniziativa per commemorare e per prendere ad esempio la figura di Giovanni Falcone? Noi siamo stati invitati dal capogruppo di Siamo Cavessi. Infatti ringrazio il dottor Giordano Raffaele che ci ha invitato stamattina, in qualità di consigliere comunale, esponente di Fratelli d'Italia. Siamo qui appunto perché noi siamo per le istituzioni, ma soprattutto crediamo nella magistratura. E proprio oggi infatti ricordiamo questo brutto evento che è accaduto all'incirca 30 anni fa. Dottor Delia, Giovanni Falcone ha lasciato questo messaggio in eredità che bisogna sempre lottare e non arrendersi per la giustizia. Il dottor Falcone praticamente è stato un esempio di legalità a tutti i livelli. Noi come testimoni di quel suo mandato lo ricordiamo praticamente, soprattutto per poterlo trasmettere alle prossime generazioni, i giovani soprattutto, che essere chiari, tangibili e onesti è la cosa fondamentale anche nell'ottica della politica. Giovanni Falcone per noi è un esempio.